La verità ha forse un valore morale, ontologico, superiore alla fantasia o alla menzogna? Un grado di nobiltà superiore, qualcosa che la distingua e la elevi dal resto? Al contrario, ciò che contava allora era avere una storia, e che quella storia fosse raccontabile. Se tutte le nostre energie, per anni e decenni, sono state impegnate in una guerra di superficie, tutto ciò che è rimasto sotto la crosta terrestre, ha continuato ad esistere, a procreare, a riprodursi numeroso. E quando i clamori della lotta del piano superiore si saranno dissolti, i mostri generati nei nostri inferi busseranno alla superficie. Grazie per la visione!